Per questo dono alla comunità romana, ai bambini, al gioco, al futuro, alle nuove generazioni. Devo dire, questa è la cosa più bella, regalare verde, regalare gioia, regalare giochi ai bambini. In nome di Rabin, è la cosa più bella che si potesse fare. Bravi, probabilmente sarà forse il primo di tanti parchi a Roma con questa visione sul futuro. Roma è la più bella città del mondo, dopo Venezia. Fogliere anche vinto. Sì, certo. Che adesso ha costruito questo gemellaggio e speriamo che se ne possano fare tanti anni. Quindi grazie ambasciatore e grazie a tutti voi. Abbiamo lavorato in questione dei ministri fino a dieci minuti fa. Siamo corsi tutti qui e adesso stanno arrivando anche gli altri colleghi. E cosa ci può dire su quello che avete raggiunto dopo la comoda di questa mattina? Ci saranno molte filazioni? Ma guardi, le posso solo dire una cosa. Che a giugno raggiungeremo il 100% degli obiettivi previsti dal PNR. Vogliamo in non nazionale. Il 100%. In non nazionale. Arrivederci, grazie. Abbiamo cantato...